Anche quest'anno il comune di Termoli ha ricevuto la bandiera blu, ma se non partiranno a breve i lavori di sistemazione al depuratore del porto, il riconoscimento che premia le località balneari per le acque cristalline e la qualità dei servizi rischia di essere macchiato da un altro colore, una bandiera marrone che il Movimento 5 Stelle ha già fatto sventolare proprio al ridosso della struttura, che si trova a pochi passi dalla passeggiata del centro storico, uno dei luoghi più frequentati dai turisti che arriveranno nei prossimi mesi. Un segnale per dare impulso ai lavori ed evitare disagi in città, dove è tornato il senatore Gianluca Castaldi, che ha ribadito così l'impegno per sollecitare gli interventi. Io credo che si debba intervenire, anche perché queste cose sono un po' nascoste, i cittadini non le conoscono. Voi a Termoli avete la fortuna di avere un cittadino nelle istituzioni, che è Nick Di Micheli, che queste cose le denuncia e le mette a disposizione della cittadinanza e delle istituzioni. Ho appena visto, dallo studio di questi cittadini eletti nelle istituzioni, che ci sono stati stanziati dei soldi. Mentre si aspettano i lavori di sistemazione alla condotta del depuratore, che dalle ultime novità sono in fase di appalto, si attende anche il nuovo impianto in zona Sinarca e i cittadini vogliono capire di più per quanto riguarda i nuovi allacci. Non serve più rimpallarsi, bisogna sedersi ad un tavolo comune, regione e qualche referente del Ministero dell'Ambiente e risolvere il problema, altrimenti che le eleggiamo a fare queste persone nelle istituzioni. Per fare cosa? Questi sono i problemi che bisogna risolvere immediatamente. La vicenda sarà discussa con un ordine del giorno anche in Consiglio regionale. Patrizia Manzo, esponente dei Cinque Stelle a Palazzo Moffa, ha chiesto al Presidente Frattura di intervenire anche sbloccando dei fondi per una questione che riguarda tutti. Il problema, ha spiegato Manzo, è stato segnalato da tempo anche dalle autorità competenti, pertanto bisogna partire subito con i lavori.